Ciao a tutti, siamo al Taste of Roma, l'evento dedicato al cibo e ai migliori prodotti di ennogastronomia italiani e accanto a me c'è Vincenzo che è il direttore proprietario della Oleoteca. Sì. Come si chiama? È Sapor d'Olio e noi siamo in Via Po a Roma, questo progetto nasce 5 anni fa con due miei soci, Alessandro e Roberto e abbiamo pensato di valorizzare questa eccellenza italiana che è l'olio extravergine cercando le migliori etichette su tutto il territorio italiano e rappresentandole nel nostro store di Via Po 84. Noi abbiamo più di 160 etichette di olio, ovviamente facciamo un servizio al consumatore finale ma anche all'oreca, quindi alla ristorazione perché abbiamo tanti clienti, ristoranti importanti romani e non solo perché noi forniamo su tutto il territorio italiano e anche all'estero per la verità e quindi cerchiamo di dare supporto nella scelta, negli abbinamenti degli oli extravergine con i piatti di questi chef. Avete anche altri prodotti? Certamente, tutto quello che in qualche maniera viene a contatto con l'extravergine che comunque ha l'extravergine come attore protagonista è rappresentato nei nostri scaffali quindi tutti i sottoli a base di extravergine, i patè di questi produttori che fanno olio hanno anche appunto questa attitudine a fare altri prodotti e quindi noi cerchiamo di completare la nostra proposta appunto con queste referenze in più. Ricordiamo allora il vostro indirizzo e se avete anche un sito web. Certamente, noi siamo a Roma in Via Po 84 e poi si possono acquistare i nostri prodotti sul web all'indirizzo www.sapordolio.com Grazie Vincenzo. È stato un piacere.